Nelle puntate precedenti E ora L'interfaccia neurale È molto lavoro da fare da solo Ce la farà? Credo di no, visto com'è andata oggi Io sono ancora disoccupato Ma i fondi sono... Lo so, non importa, troverò un modo Non contano i soldi Quando cambi il mondo Attenzione, agenti, potenziale allarme bomba Ehi, MJ Allora, ho fatto spesa Non vedo l'ora di scoprire cosa riuscirai a inventarti Arrivo il volo Preparati ad essere stupita Che c... Si è bugato il gioco Si è bugato il gioco No No Mi sono infilato in un palazzo E adesso come esco? Non facciamo aspettare, MJ Salve a tutti ragazzi Da PierreDarkNight91 E benvenuti nella nona puntata Su Marvel's Spider-Man Allora, dopo... Dopo quello che avete visto Incredibile Ho dovuto ricaricare la partita Comunque dobbiamo andare da Mary J Che non è difficile da capire Noi andiamo da Mary J Eccoci Ok Qui abita Mary J Abita qui Mary J In questo palazzo Molto, molto Colorato Con molti murales Se Ok Ok Peter Non crederai mai a cosa è successo Cosa è successo? Ricordi l'indirizzo che mi hai passato? Si, si Ci sono andate Lo so ma... Aspetta Che cos'è? Ascolta No, non mi dire che devo usare di nuovo Mary J No, ti prego Ti prego Dimmi che non c'è Mary J Adesso Madonna, ma questa qua è pazza È pazzissima Perché rischia la vita Questa qua alla fine crepa Poco prima Lo sapevo Devo usare Mary J È bellissimo Con Spider-Man Questo è un posto indicato da Pete Sono tutti armati Che succede qui dentro? Che balls Le cose stealth Le odio Quell'ufficio potrebbe contenere qualcosa Che colleghi lì a tutto questo Abbiamo capito Eh? Cos'è stato? Chi è l'idiota che ha lasciato la sua roba in giro? Eh, mi scommetto Che c***o? Stavo sparando a un topo Devo liberarmi di quel tipo Come? Il capo prende soldi da Martin Lee Esatto Noi costruiamo questo mostro Martin Lee finanzia le imprese del capo Ci guadagnano tutti Beh, meglio se sistemi quella saldatura Oppure il capo se la prenderà con te Ehi, ho sentito qualcosa Ehi Rick Il capo vuole dirti due parole Vieni qui Devo entrare in quell'ufficio La madò Ci farà il capo con i soldi fatti lavorando per lì Polvere di lapide Verranno presi tutti in polvere di lapide E cosa dovrà farci Martin? L'hai mai provata? Solo un campione Il capo sta ancora perfezionando la formula Ma credimi Picchia duro Dove devo andare? Attenzione Fermo! E non ho visto Riproviamo Maledetti Perché mi fate fare stai cose stealth? Dove devo andare adesso? Da dove arriva questo seghetto? Ehi Qualcuno ha preso altra birra dopo l'ultimo giro? Che cos'è? Qualche tipo di attrezzatura militare? Mi... Che qua? L'ufficio deve essere a destra Devo muovermi con molta prudenza Ehi Cos'è saltatamente il capo di piazzare i rilevatri GPS ovunque? È una precauzione Serve a proteggere il segreto industriale della polvere di lapide Mi sembra da paranoici Nessuno te l'ha chiesto Al lavoro Ce l'abbiamo fatta Forse Spero Che c'è qui dentro? Non ti sgamano Tombstone Non la noterà Perché sarà sparita Ho detto Ho detto che L'ha giusto Hai fegato Rick Ma vediamo quanto Oddio non si fa nulla Che delusione È di pietra E ora mi serve un saldatore Quindi abbiamo morto Abbiamo una pallottola spiaccicata Posso mollare ora Devo entrare in quell'ufficio Ecco Madonna Cos'è? Forse Vai Progetti Un APC Stanno costruendo questo bestione per lì Ma a che gli serve un veicolo corazzato? Deve esserci dell'altro in quest'ufficio Sì Guarda qui Rilevatori GPS Come intende usarli Tombstone? D'accordo gente Ci muoviamo Prendete l'attrezzatura in ufficio Devo andare Ok finita? Grazie a Dio No le cose stealth Le odio Avete visto? Ho parlato Ok Vorrei dirti di non farlo più Ma sapendo che non mi darai comunque retta Tieni Portane qualcuno con te Forte Grazie Sai che Tombstone è matto e quasi invincibile vero? Tutti hanno un punto debole Sì Il mio Bolle in pentola a propria ora Sì Un pupazzo di Spiderman Ok Raccontami cosa hai trovato nell'ufficio di lì Beh Sembra che lì ce l'abbia a morte con Norman Osborn Sì ma Perché? Eh Non ne ho idea Ma a quanto pare la sua prossima mossa coinvolge il respiro del diavolo Qualunque cosa sia Già Vorrà dire che indagherò Sai pensavo E se noi formassimo un team? Sì Aspetta Vuoi essere la mia spalla? Una cosa tipo Spider Girl? Spider Woman No Non una spalla Una palla Una partner Ah Oh Non di nuovo Telefono Ehi è il tuo sistema anticrimine Pare sia un'effrazione Charles Standish Suona familiare Oh È il CFO dell'Oscorp Aspetta Non penserai che abbia a che fare con lì Vero Eh Hai lasciato i vestiti per terra in cucina Dove vuoi che io Beh Qui va bene Lascia A dopo Sì Bellissimo Che belle scenette Sono troppo belle ste scenette Mi fanno morire dalle risate Troppo belle Cioè Una cosa seria Sta per andare a salvare Sta per andare a indagare E tutto il resto E lasciati i vestiti a terra Sistema È una figata È una figata È troppo divertente Ehi Sono una canale ma Sei il mio eroe Ok Livello incrementato Ehi Sono io Questo corregno non è male Cosa sappiamo sul conto di Charles Standish? Vediamo Direttore finanziario dell'Oscorp Nella compagnia da più di vent'anni Single Noto per la sua collezione d'aste E se possiedi un ottico in quell'edificio Deve essere piuttosto ricco Se ha lì alle calcagna Allora c'entra il respiro del diavolo Vedo di analizzare per bene il file Fammi sapere se scopri qualcosa Ho la sensazione che l'attentato al municipio Sia solo l'inizio Quindi siamo partner ora? Perché sembra proprio di sì Sì partner Suona bene Ok A dopo Eccoci Siamo arrivati giusto giusto eh La polizia ha bisogno d'aiuto Beh non è un problema Ok Ok Scusate ho sbagliato tasto Bravo Ricarica sempre tu Tieni te ne do un'altra Ok Bene Niente di niente E' un piacere E' un piacere Dentro ce ne saranno altri Voi restate qui Vai vai Infilia Madonna ma questa è un'ondata Già lo so Questa sarà un'ondata Speriamo Non sia stealth Perché se è stealth qua Comincio a dare i numeri Andiamo Qualcuno andava di fretta Spider-Man Chi è? Che Sei ferito No sto bene Non mi affezionato più I poliziotti eh Oh oh Vive nel lattico All'ultimo piano Ok aspetta qui Per fortuna siete qui Non trovo la mia auto Credevo di averla parcheggiata a questo piano E va a cagare Tieni Tieni A posto A posto Dicevamo Dove dobbiamo andare Oh Non ce ne sono altri Tieni Un regalo Anche questo Scusate Ma scappano Perché scappano? Tieni Va bene Va bene Volete quest Volete quest Volete quest Ah 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 L'ho preso Va bene Sono un po' Fastidiosi eh Aia Uccidi questo Aia Non si tratta così un supereroe Aia Sono troppo vicini Oddio Rischio tantissimo Ce ne sono altri A posto Aia Tieni Dove sei A cagare Non mi dire che arrivano altri Sono senza energie No il bestione Vabbè Tieni Ok già ammazzato il bestione A posto Bravo Non mi hai preso Ok Fatto Gran finale 10 10 L'impegno Ok Ok Il vano Quindi Andiamo Dovrei riuscire a raggiungere L'antico Da qui Se mi avvicino Posso neutralizzarlo Va bene Oddio Una figata Vai 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 No 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 Chiè? Chiè? Vai Ok Ci sono quasi Chiè? Apri Apri No, mi direi che dovevo fare la stealth Meglio restare nell'ombra Ok Tensione, Metro Chin Chi Chi John Vai Si ma Oddio Ciao Ce li stiamo facendo tutti così? Vai, vai Vai Mamma mia, non finisce più Qui Edificio altino Eh, un bel po' Che ca... Scherzate? Perché le bombe? Via Oh oh Oddio Oddio Così non va Dai Vai Siamo arrivati Siamo arrivati Ecco Standish E lo sapevo Ok E ora? Metti la password Adesso se mi faccio scoprire questo muore Quindi per forza stelte Non devo farmi scoprire Sembra nervoso Forse dovrei metterlo K.O. Dici? Quello è pericoloso eh Ce ne sono poi due lì Proviamo così Proviamo così Bravo Ok Io le cose stelte non le so fare Mi piace giocare così Vedi com'è bello Oddio il bestione Ok Non m'hai preso Non m'hai preso Non m'hai preso Non mi prendi Dai ammazza questo Ok Ok Ahia Non si picchia Un supereroe Ok ce li facciamo tutti così Come lo ammazzo questo? Non mi ricordo più Ok A posto E ce l'abbiamo fatta Ok via libera Spero che Standish stia bene È morto è morto Sicuro è morto Perché quello è già Già il nome Standish Vuol dire che è già steso No è vivo è vivo Oh 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 Amico Non lo fare più eh Perché sennò poi rimani lì Hai visto cosa succede? Vai Arrivederci Arrivederci pure a te Questo lo butto a terra giusto Sembrava costoso Finiti? Proviamo un'altra volta Ok Proviamo Vediamo se arriva qualcun altro Ora è sicuro Cosa cercavano? Solo Registri contabili Sul respiro del diavolo E tu come lo sai? Perché lo vogliono? Non so neppure cosa sia Sono anni che Osborne investe molto denaro ma Mantiene l'assoluto riservo sul progetto Io sono l'unico a possedere la documentazione Non più Alcuni documenti sono stati copiati su un server sicuro Ricevute di pagamento a Un certo dottor Isaac Delany Chi è? Non ne so molto Joe! Eh E che mira Andiamo andiamo No L'ascensore è Tieni duro Vai Prendiamo Standish on the bear Vai Vai Eh Che ti devo dire? E cadi più piano Ahaha Ahahahata Preso tutto bene? si credo di si ok ok Comunque per essere la tromba di un ascensore non è male Perché amo sto gioco? Perché lo amo? Le basi nemiche consentono di affrontare combattimenti impegnativi Sgombrale per ottenere gettoni base, va bene, questo lo sappiamo Ehi, Yuri Yuri? È bene? Sì Che te frega, Teta? Non ho scoperto niente di che da Standish perché sono arrivati gli agenti della Sable e si sono messi in mezzo Che succede? Ho la sensazione che vogliono solo assicurarsi che non parli Perché sa del respiro del diavolo Esatto, qualunque cosa sia A quello sto ancora lavorando, forse ho una pista Una pista? Parli come uno sbirro Vorrai dire come... Spider Cop No, gli ha chiuso il telefono in faccia Yuri? Me la sono cercata Spider Cop Peter, come sta Standish? È al sicuro Sta Stasis Ok, bene E i demoni? Erano in cerca di un nome Hai una penna? Sì, vai Dottor Isaac Delaney Ok Chi è? Cosa vuole? Speravo che me lo dicessi tu Ci provo Dammi solo Ah, dimenticavo Hai lasciato da me quel rilevatore di Tombstone Più tardi lo porto al laboratorio del dottor Octavius Ti faccio sapere cosa scopre su Delaney No, non andare da Octavius Tranquillo Stavo solo decodificando Allora Secondo i miei calcoli Che non funzionano mai i miei calcoli Ok Questa volta sì Ok Abbiamo attivato un'altra torretta Non ci interessa Va bene Nel frattempo che Ci chiamano per Una missione principale Noi, come sempre Ci andiamo a fare Queste Che figata, signori Non ci chiamano? Strano Va bene Attivo questa Un messaggio di Doc Vai Che rimpiazzare gli arti con banali copie Quando possiamo migliorarli Chi ha perso un braccio Lo rivuole indietro È chiaro Ma noi possiamo offrire di più Il corpo umano non è un dogma Esistono prospettive Che vanno oltre il nostro vissuto Riflettici Doc sta lavorando anima e corpo Spero che non esagiri Ehi, hai tempo di controllare qualcosa per me? Forse Se me lo chiedi, per favore Su un tetto di Earth Kitchen È stato notato un contenitore sospetto Manderei gli artificieri Ma magari è solo il progetto scolastico Di qualche ragazzino Sì, lo so C'è la crisi Bla, bla, bla Quindi? Andrei a controllare Per favore Ah, le paroline magiche Spero proprio che si tratti del progetto di qualche studente Ah, bei tempi quelli La scuola era molto meno complicata della vita reale Dove stanno gli altri? Ma come si spara? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oddio Scappa Oddio Adesso sono impazziti Ma spara anche me Sparano anche me Non ho capito Stavano sparando Assurdi per gli fregati Cacchio di cinesini maledè Fermo Ci ho fatto La città La città è una zona di guerra Sempre a disposizione Assurdo, eh Stavo rischiando la pelle lì Allora Andiamo avanti Missione principale Dai che oggi facciamo Tante cose stiamo facendo Siamo arrivati Siamo arrivati Lì sopra Qui Abbiamo un 10-10 Spaccio ancora in corso Serve una pattuglia sul posto Agenzi in zona Spider-Man Hai trovato uno dei miei punti di ricognizione Chi è che parla? Domanda errata Quella corretta è Riuscirai a disinnescare le mie bombe? Pure Il mistero ha disseminato dei punti di ricognizione Ok Ci sono pure bombe Mamma mia Finisce più Cioè è lunghissimo Va bene Abbiamo anche questa Abbiamo tante cose Tante Troppe Va bene Missione principale non c'è Per il momento Lì sotto Dove sono questi? Qui sopra? Qui sopra Immagino che non siano qui per scambiare figurine Vabbè Mai stato un fan della lobby farmaceutica Ma lo spaccio nei vicoli è anche peggio Via al riparo Inizia a pregare Questi sono Della banda di Pisk Non sono pericolosissimi Aprite il logo Oh 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 Mi ha coperto di ragnatele MJ Cos'hai scoperto su Isaac Delaney? Guarda la foto che ti ho inviato Quale sarà Delaney? Non lo so Dovrai andare alla festa per scoprirlo Per fortuna ho già il costume C'è rimasto questo bestione A posto Ok A posto Lo spaccio è forse l'attività criminale più deprecabile Di sicuro è tra le prime cinque Tra le ultime cinque Non lo so Va bene Dobbiamo fare anche la missione delle bombe ma Qua dobbiamo fare un sacco di cose Va bene Quasi quasi Dai Allora in questa puntata Ci andiamo a fare le bombe dai Ci facciamo le bombe Ma si dai Allora Vediamo cosa voleva Attenzione agenti a Roosevelt Qui comando Com'è la situazione? Punto di controllo assalito dai demoni Ok Allora ci facciamo Facciamo questa missione per capire Ok Avvia sfida Questo pc segnala la presenza di bombe nel quartiere Che stanno per detonare Devo sbrigarmi No è a tempo Oddio Eh io non so cercare Oddio Devo neutralizzare quelle bombe In un minuto è otto Come Ok 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 E sali Allora abbiamo 50 minuti Eh magari Secondi Dai Dai Muoviti Dai Ancora una Forza Ok A 200 metri 30 secondi 20 Vai Vai Veloce Sì ma salta Troppo Assurdo eh Meglio Niente male Con quelle bombe Ma dovresti lavorare sulla postura Comprometti la precisione A che razza di gioco stai giocando I giochi Lasciamoli ai bambini Io sono un professionista E ben pagato Il tuo cliente ha sprecato i suoi soldi Le informazioni possono valere più del denaro Ho imparato molto osservandoti Una cosa che non mi piace È che salta troppo Sto spiderman Cioè non hai la precisione Di saltare Dove vuoi tu O almeno sono io Che inizialmente Non sono bravo Però Trovo questa difficoltà Infatti mi stavo Incartocciando Per La fretta di andare A disinnescare Quell'ultima bomba Decodifichiamo anche questo E ci salutiamo ragazzi Allora così Vai Va bene signori Io penso di chiudere qui Questa nona puntata Su marvel's spiderman Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Condividete Commentate Nella prossima Continueremo E andremo a fare Come sempre La storia principale Bacione a tutti Ciao 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 Ciao